Ciao biker! Nel video del canale in cui si illustrano le differenze tra YX e GPX ad un certo punto si vedono anche alcuni elementi dei relativi impianti elettrici. Ad esempio la centralina dell'YX ad anticipo fisso e l'altra del GPX ad anticipo variabile. Bene, oggi vediamo cosa significano questi due termini e capiamo come è strutturato l'intero impianto elettrico. Sigla! Innanzitutto premetto che ho montato sul motore un impianto elettrico GPX ma tutte le cose che dirò vanno bene anche per l'altro impianto quello YX tranne naturalmente per le differenze che puntualmente evidenzerò. Ecco la parte da dove nasce tutto l'accoppiamento statore e rotore detta anche volgarmente accensione. Questo è il rotore o volano e non è un caso che abbia due nomi perché esegue proprio due funzioni. Questo elemento girando saldamente con l'albero motore svolge contemporaneamente il compito di regolarizzare il funzionamento del motore che è proprio del volano e di creare l'effetto di induzione elettromagnetica che invece è il lavoro del rotore. Oltre al fenomeno di induzione il rotore ha l'importantissima responsabilità della fasatura di accensione tra il pistone che è contenuto all'interno del cilindro e la candela ovvero è l'unico organo elettrico che mette in relazione la posizione del pistone con la scintilla della candela. A una determinata rotazione dell'albero motore quindi c'è una sola posizione del rotore e quando lo giro mettendo il segnetto T allineato con il taglio del basamento so che il pistone si trova al punto morto superiore. Pensa se così non fosse il motore neanche si accenderebbe. Una cosa che non tutti sanno è che la scintilla della candela scocca ogni rivoluzione dell'albero che per i motori a quattro tempi non rappresenta sempre la fase di compressione scoppio. Quindi il rotore non è capace di distinguere se un punto morto superiore nella fase di compressione o nella fase di scarico e per evitare problemi dovuti a questa mancanza l'impianto elettrico rilascia ad ogni giro l'impulso alla candela. Come già detto questo è il volano dell'impianto GPX è un po più pesante di quello YX. Qua stiamo parlando di 630 grammi contro i 530 degli YX una differenza del 19% compensata però da un minor diametro. Dentro invece abbiamo alcuni avvolgimenti che sono il cuore dello statore. Sfruttando l'induzione elettromagnetica genera una corrente che viene inviata alla centralina. Ovviamente in questa zona non c'è olio ed è una parte che si scalda molto durante il funzionamento del motore. Non è raro quindi vedere piloti che praticano sbagliati fori da reazione sul carter di chiusura. Tramite i cavi, questo e questo, si arriva alla centralina che è il cervello dell'impianto elettrico. Questa infatti è l'elemento che regola la tensione e decide quando inviare l'impulso alla candela. Tra la centralina e la pipetta della candela c'è una bobina che serve ad inalzare la tensione a livelli sufficienti per far scoccare la scintilla. Prima di ritornare a parlare della centralina però vi voglio far vedere una tipica animazione del funzionamento di un motore a quattro tempi. In internet ce ne sono a decine, più o meno dettagliate, ma presentano quasi tutte lo stesso errore. Quando il pistone è nella fase di compressione, la scintilla della candela non scocca mai in prossimità al punto morto superiore come siamo stati abituati a vedere in tutte queste animazioni. La scintilla in realtà scocca prima del punto morto superiore per il semplice fatto che la combustione è un processo lento e che richiede quindi tempo per erogare il picco di pressione all'interno della camera. Un'accensione comandata in corrispondenza del punto morto superiore farebbe ritardare eccessivamente questo picco di pressione, diminuendo le prestazioni del motore senza bruciare tutta la miscela contenuta nella camera di scoppio. La durata della combustione quindi deve essere calcolata preliminarmente e questo processo di anteporre la scintilla al punto morto superiore si chiama fasatura d'accensione che ovviamente non può essere espresso in secondi ma deve essere calcolato tramite i gradi di rotazione dell'albero motore. Ritorniamo a questo punto alla centralina che come detto è lei a comandare. Il ragionamento più semplice è l'anticipo fisso che è indipendente dal numero di giri e a una determinata rotazione dell'albero che è appunto fissa è sempre quella ci sarà lo scoccare della scintilla prima del punto morto superiore. Questa logica per quanto perfettamente funzionante presenta però una limitazione ovvero il non considerare le diverse velocità di risalita del pistone proporzionali al numero di giri. Per capire meglio questa cosa ho calcolato l'andamento della velocità del pistone in un motore YX originale. Nel grafico sono riportate le velocità in metri al secondo di un giro completo dell'albero per 6, 8 e 10 mila giri al minuto. A destra invece è presente la tabella con tutti i valori. Partendo dal punto morto superiore subito dopo la fase di scarico comincia la fase di aspirazione con il pistone che scende verso il punto morto inferiore raggiungendo la sua velocità massima poco prima di un quarto di giro. Arriva al punto morto inferiore in cui la velocità è nulla e da qua ha inizio la fase di compressione. Con lo stesso andamento di velocità della fase precedente il pistone risale verso il punto morto superiore ma come detto la scintilla è anticipata rispetto a quest'ultimo. Specifico che i gradi di anticipo d'accensione possono cambiare in funzione del motore e qua mi limiterò a dare una stima a solo scopo informativo senza avere effettivamente dati certi. Quello che conta è capire il concetto. L'anticipo fisso potrebbe fondare il suo ragionamento sul far scoccare la scintilla costantemente a 340 gradi quindi sempre 20 gradi prima che il pistone raggiunga il punto morto superiore. A tale rotazione la differenza di velocità per esempio tra 6.000 e 10.000 giri non è assolutamente trascurabile con un bel 67% di aumento. Ed ecco che qua interviene la logica dell'anticipo variabile che essendo in funzione del numero di giri considera la velocità del pistone e regola i gradi di anticipo d'accensione su un range e non su un singolo punto. Concludo questo video specificando che un ipotetico intervallo di anticipo d'accensione è tra i 10 e al massimo 40 gradi. Ragazzi spero di aver spiegato l'argomento in maniera comprensiva. Se il video ti è piaciuto lascia un bel like e ci vediamo alla prossima staccata. Ciao bike!